Una marcia silenziosa ma che è riuscita a dare voce alla parte sana della città, quella che rifiuta la violenza in ogni sua forma, quella che è rimasta scioccata dagli avvenimenti che hanno segnato la comunità locale. Con questo spirito Molfette è scesa in piazza ieri sera per ribadire il proprio no all'illegalità. Un lungo corteo, partito dalla chiesa di San Domenico, è sfilato lungo le vie del centro tra striscioni e fiaccoli accese. Un'iniziativa organizzata dalle comunità parrocchiali dell'Immacolata di San Gennaro e San Domenico con il sostegno delle associazioni cittadine. Da loro è partita la richiesta di fermarsi a riflettere dopo i gravi fatti accaduti negli ultimi mesi. Dalle devastazioni in piazza della notte di Capodanno, finite alla ribalta delle cronache nazionali, al brutale omicidio di Dario De Gennaro, il 23enne ucciso a coltellate e il cui cadavere è stato ritrovato il 16 febbraio scorso in un'abitazione di Via Immacolata. Episodi che hanno sconvolto e spaventato la comunità molfettese che ieri sera si è stretta nel ricordo della giovane vittima, prima in occasione dei funerali celebrati nel pomeriggio nella chiesa di Sant'Achille e poi con una marcia per urlare in silenzio tutta la sua voglia di legalità e di rispetto per la vita. Credo che la vita di ogni persona venga sminuita come valore, invece il valore è fondamentale per cui da un episodio del genere in cui gli inquirenti, le forze dell'ordine, la procura deve trovare le motivazioni e le cause, ma qui noi vogliamo verificare le cause profonde che ci sono e sono all'interno di un'etica della non violenza che noi dobbiamo tutti quanti contribuire a creare insieme all'etica della legalità perché la illegalità genera violenza.